Abbiamo con noi Piero Schiavazzi che è vaticanista e direttore eventi di Elea. Vaticanista è pertanto la figura più opportuna per commentare il documento del Pontificio Consiglio della Giustizia e della Pace Vaticano del 24 ottobre sulla riforma del sistema finanziario globale. Vogliamo tratteggiare i punti più salienti di questo documento. Il punto più saliente è paradossalmente la forma, non la sostanza e nemmeno paradossalmente perché i contenuti e le proposte al limite sono deducibili dalla Caritas Inveritate, dalla Centesimus Annus, dal complesso del Magistero della Chiesa. La novità è nella forma per la prima volta questo livello così alto, la Santa Sede, Organismo Vaticano, il Dicastero di Giustizia e Pace, cioè un po' il Ministero del Lavoro, dell'Economia e dello Sviluppo, sommati insieme, scende nel dettaglio di proposte concrete per, non si limita a indicare i sommi principi, ma scende nel dettaglio di proposte concrete per una riforma inderogabile del sistema finanziario internazionale verso un governo mondiale dell'economia. E questo è un punto importante anche perché il Dicastero Vaticano entra in concreto con delle proposte estremamente chiare, molto semplici e anche applicabili, velocemente previa la volontà politica di applicare questi consigli. La Chiesa in genere gioca per passaggi laterali sulle fasce, entra poco in area, in questo caso invece verticalizza il gioco e fa delle proposte concrete, che sono una banca centrale mondiale che governi la moneta a livello planetario per stabilizzarla, perché di fronte a problemi che sono mondiali occorrono organismi su scala planetaria in grado di dare una risposta globale, quindi una banca centrale, mentre si discute sul rafforzamento di Francoforte, la banca centrale europea, la Chiesa va oltre, fa un salto di dimensioni planetarie e sposta i termini del problema, perché quando anche Francoforte avesse gli stessi poteri di una banca nazionale, che ancora non ha, il problema verrebbe spostato dai confini dell'Italia, della Francia, della Spagna, verrebbe spostato ai confini dell'Europa, ma rimarrebbe comunque il problema dei rapporti con le altre monete forti, che sono il dollaro, che è la moneta cinese, che sono i petrodollari, che sono cose diverse dal dollaro, che è la moneta giapponese, e quindi si pone il problema comunque di un confronto contrasto, oggi le monete sono in guerra, questo è il problema, questo è il grosso problema, il nodo di partenza al documento di Cano, c'è una guerra delle monete, che è una guerra dei debiti pubblici, che si fanno la guerra per attirare poi degli investitori, dei compratori, penna la sopravvivenza economica e politica degli Stati, quindi è una guerra finanziaria, la Santa Sede, si pone quindi il problema, come all'indomani della seconda guerra mondiale, allora c'era un conflitto di tipo militare, quindi una camera di compensazione che fu l'ONU, stavolta c'è un conflitto di tipo finanziario, una camera planetaria di compensazione, che è la Banca Centrale Mondiale. Possiamo fare un'ultima considerazione anche per dare speranza a questo 2012 e agli anni a venire, c'è fermento nella società civile, ci sono proposte che vengono avanti anche nell'ambito sindacale e non solo sindacale, c'è anche una maggiore consapevolezza del mondo delle banche di orientare la loro attività, nell'attività tipica del credito verso le famiglie e le imprese e non verso la finanza. Questo fermento della società civile può essere indirizzato costruttivamente per smuovere un po' a questo punto anche le istituzioni europee, a non scaricarsi la palla tra di loro, ma dare una risposta forte e univoca per il bene di tutti. Io credo che l'Europa unita si farà soltanto quando i problemi li prenderanno per il collo, quando avranno l'acqua alla gola dei problemi montanti e irrisolvibili, come è accaduto altre volte nella storia di questo continente, si andrà verso delle forme federaliste, d'altronde quale Stato, se non con la pistola puntata, ha rinunciato a quote di sovranità mai nella storia. Quindi questo è un portato di tutta la storia della civiltà. Difficile immaginare che vada diversamente per intuizione profetica. I profeti li abbiamo avuti, si chiamavano De Gasperi, Schumann, Adenauer, Spak, ma venivano da una situazione disastrata e dissestata di un continente che si appellava a loro come risorse di ultima istanza. In contesti diversi abbiamo a che fare con, invece, nell'epoca dei sondaggi, dei leader che per essere rieletti sono molto più attenti agli umori al ventre dei loro popoli che tengono forte e stretta la mano sul portafoglio. Io penso naturalmente, in questo caso, alla Germania che ha la moneta più forte. Per quanto riguarda, invece, le speranze ad uso interno, ho trovato significativa la decisione dei banchieri di tagliarsi il 4% delle retribuzioni che sono milionarie. Ci sono le stock options, le quote di azioni a cui hanno diritto delle banche per contribuire a questo fondo di solidarietà generazionale verso i più giovani per trovare lavoro. Questo mi è sembrato una nota molto positiva. Al di là dell'ingegneria fisica, le riforme si fanno con grandi opere di ingegneria, strutturali, e ho trovato interessante quest'altro aspetto della testimonianza. Perché poi accanto alle riforme c'è la testimonianza personale degli uomini e quella muove la storia molto più di quanto non facciano, appunto, le riforme strutturali. Grazie. 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 Grazie.